inizierò a mio modo guarda che meraviglia e che stranezza la nebbia non c'è proprio mai qui e adesso questa brezza che sembra arrivare da tutte le parti e che la disperde guarda che spettacolo tutta la città lì davanti spalancata nella sua inimmaginabile ricchezza nella sua bellezza guarda San Pietro sembra che si alzi per dire venite qui senza lasciarci scampo e noi è lì che dobbiamo andare è la stessa città di sempre la stessa di prima ma questa nebbia che è arrivata e se n'è andata è come se ce la riconsegnasse più nuda disvelata ci sembra di capire qualcosa di più senza sapere cosa guarda Luciana che spettacolo i quieti bagliori gli smalti colori gli strati delle costruzioni degli anni, dei secoli, delle epoche delle ere e noi che vediamo tutto con un solo colpo d'occhio noi per andare lì dove non possiamo che andare dobbiamo per forza lasciare questo punto di vista alto e dobbiamo scendere perdendo ogni passo un pezzo della visione completa dobbiamo scegliere nel reticolo immenso delle strade e degli incroci un percorso che infili splendori e fuffa ori e orrori fettori di cloacca e pietre migliari e per andare a quella cupola a quel magnete fatto di spazio e di chiarore dobbiamo scegliere un tragitto e così scartare ogni scelta tutti gli altri possiamo sì tornare indietro prendere altre vie ripercorrerne di già fatte tergiversare finché si può ma poi si deve arrivare là lo vuole la struttura stessa della città e della visione e quando questo velo di nebbia si è alzato l'abbiamo capito meglio o almeno a me sembra questo Luciana non so tu annusa le zagare senti il suonatore e il suono dell'aria vedi tutta questa luce che si schianta sulla città e schiuma come un mare contro la scogliera e mi ritorna in mente il tempo passato e la mia vita ci sono segrete rispondenze rispondenze echi assonanze metalli che risuonano fuori e dentro di me richiamandomi l'un l'altro è come se noi ripetessimo più volte nella vita una mutazione cellulare da quando siamo stati morule dentro un altro mondo no da prima da quando siamo stati cellule totipotenti staminali poi sì sedici a fare la morula animula vagata blastula scusa scherzo però no a un certo punto totipotenti guardiamo dall'alto che però è un da prima lo sconfinato stendersi delle possibilità intatte dispiegate davanti a noi tutte insieme compresenti e c'è questa balconata che ci tiene qua dove siamo ma è là che dobbiamo andare dobbiamo abbandonare questa pienezza astratta scendere scegliere e camminare toccare con mano e mordere le cose e le persone anche e incarnarci pallidula rigida nodula dimentica e da questo prima che sembra senza tempo andare camminare correre scassarci contro i muri spellarci le ginocchia e non vedere più niente niente dell'insieme che ci sembra perduto mentre fissiamo attoniti un mattone una maniglia un pezzo di mastice ormai secco e screpolato tra un infisso e un vetro opaco è questo nino nino che vorresti dire a Luciana ora che stai riuscendo a rimanere con lei più di dieci minuti ora che il suono non è più di campanella ma di campana adulta e questo è anche altro signori Dario Voltolini che pezzo Enrico Remmert Enrico Pagella pezzo fantastico io chiuderei qui che altro c'è da dire se la firma copie è fuori esatto niente invece dobbiamo fare un po' di domande però credo che qua ci sia già tutto quello che c'è in questo libro cioè una prosa veramente stellare scribacchia questo ragazzo come sappiamo ma beh non c'è neanche non so neanche bene cosa dire di questo libro io l'ho letto fra l'altro in pdf cosa che odio però oggi finalmente mi è arrivato tra l'altro è bellissimo è questa cosa bisogna dire anche questa cosa qua niente voglio chiederti alla fine di questo lunghissimo percorso che libro è nella tua carriera questo il numero ah beh non mi ricordo come le fidanzate 8-9 8-9 alla fine di questo lunghissimo percorso ti sei voltato indietro e come nasce il giardino degli aranci allora che domanda nasce sembro cazzullo con la goggia nasce nel giardino degli aranci che è un posto che c'è sull'Aventino a Roma per cui si gode una vista bellissima sulla città e io ero lì che mi beavo di di questo spettacolo che Alessandro Baricco ha tratto dal mio precedente libro e io me l'ho trasferito a Roma stato dieci giorni lì andando alle repliche ogni sera e di giorno facevo il turista totale e mi sono trovato al giardino degli aranci e ho visto proprio l'inquadratura della scena da cui poi è germogliato questo libro qua che è un libro di ricordi di memorie di celebrazione anche di momenti particolari della vita di questo ragazzo che poi è quello adulto che rievoca e la parte che hai letto tu è particolarmente significativa perché tu sei un narratore scelta no a caso no no a caso no però la trovavo se avessi dovuto leggere mi sono detto cosa leggeresti davanti delle persone e gli ho detto queste due pagine e mezzo in realtà si potrebbe andare avanti ma non sono un gran lettore grazie è una metafora di tutto il libro questa zona da cui si vede tutta la città ma che però per raggiungere la cupola di San Pietro che si vede in fondo è una postazione che va abbandonata perché bisogna scendere inoltrarsi nella città e a mano a mano che si scende la città in quanto totalità si perde perché l'orizzonte cambia e tu a un certo punto avrai delle strade e non saprai più da che parte andare e questa non è la visione che avevi da sopra e la visione che avevi da sopra è quella che è della città totipotente dove tu ti sembra di avere a disposizione tutte le possibilità poi però per andare da qua a là devi scegliere delle strade scegliendo le quali ne scarti tutte le altre quindi la metafora è un po' quella lì di quando diciamo da piccolissimi ti sembra che tutto il mondo sia lì a disposizione poi quando comincia ad entrarci devi scegliere una cosa lasciarne un'altra eccetera niente di che e lo sapevo tutti che è così ma quello che mi piaceva fare era metterlo sotto forma di una visione di una città bella dove la vita è comunque una città bella con dentro delle cose brutte però dove vince la bellezza che praticamente Roma è così no? credo mi è venuta poi una domanda intelligente questa cerco di ricordarmela per dopo ma la scrittura è stupenda stellare bellissima una scrittura bellissima e quello che personalmente mi affascina in questo libro è questa questo tentativo di catturare il mondo vorrei dire un catalogo ma non è un catalogo è più come una camera delle meraviglie in cui si muovono ricordi di cose ed elenchi di cose e a me piace molto quello dei tavoli e quindi ve lo leggo però se non metto gli occhiali mi sa che allora una distesa di tavoli dalle frattine ai tavoli rotondi in tech in stile svedese anni 60 dai componibili dilatabili modulari a quelli molo brocco in radica massiccia tagliata spessa irregolarmente tavoli di vetro di legno di metallo di resina di piastrelle di pietra in fibra di carbonio intersiati grossolani da riunio industriale da bistro parigino raffinati a semicerchio per riunioni per pregare appoggiati al muro a centro stanza oblunghi quadrati anche i tavoli erano come le voci nella sua testa nella testa di Nino Nino questo accumularsi di voci che sono le voci dei paesaggi degli oggetti dei ricordi delle persone sono diciamo un carattere ricorrente le voci si inseguono diciamo una storia che si svolge in un tempo abbastanza stretto una settimana due settimane non tanto di più è una storia che sfreccia come fa Nino Nino il protagonista del libro per tutto il libro ed è una storia appunto piena di cose piena di meraviglie un altro ci sono le musiche musiche cebac ma c'è anche tutti insieme appassionatamente ci sono i Beatles ci sono pittori ci sono scultori ci sono tantissimi odori e tantissimi gusti anzi gli odori me li sono i profumi me li sono segnati io mi sono segnata questi viola vaniglia basilico limone mirto canfora lavanda cedro cardamomo macis pepe mogano albume e anche odore di torba e di asfalto e quindi diciamo nel corso del libro questa camera delle meraviglie proprio come quelle seicentesche un po' vere un po' false si accumulano e si intersecano con le parole i ricordi e un po' anche i personaggi sono un catalogo le donne perché questo libro parla di donne sette donne sei più una giusto sì no ci sono anche gli uomini che iniziano tutti per la come mai perché tutti i nomi di maschi iniziano con la a come alfa non sapevo come fare il maschio alfa c'è il maschio alfa e poi ci sono tranne nino nino tranne tranne nino nino che è il contraltare di paola paola sì per esempio la figura di paola paola che è l'unica vera donna che è l'amica perché le altre donne sono un po' un esploso di parti anatomiche come in un quadro picassiano cioè sono dei profili non sono non sono dei veri personaggi no sono delle specie di scatole di montaggio dove dove nino nino cerca di ricomporre una figura originaria perché la prima la prima figura in realtà non è così esplosa è identica a lui compatta come lui ed è la la bambina Ilaria sì Ilaria la bambina di cui si innamora in quella maniera lì come si fa all'asilo assolutamente complanare assolutamente senza ruoli disassati completamente identici da tanti punti di vista con un progetto comune che è quello di far secche le i vermi che cadono dalle piante nel giardino dell'asilo passandoci sopra col triciclo ed è una situazione di puro rispecchiamento dove non c'è nessun disequilibrio dopo questo questo equilibrio si perde e nino nino come io penso molti di noi cercherà di ricomporre una figura intera dopo arriva la madonna dopo arriva la madonna sì Luciana la figura di luce di Topazio però Luciana anche viene bypassata perché non succede niente con Luciana e quindi l'altra figura che rimane a fianco però per tutta la vita e non semplicemente come ricordo di infanzia affiancando nino nino come intera e Paola Paola che gli sta di fianco e di fronte di nuovo in maniera in maniera paritaria egalitaria completamente rispecchiante non c'è non c'è una non c'è una non c'è una ricomposizione dal cubismo al ritorno all'ordine di Paola Paola perché lei c'è sempre stata e quindi si merita il nome Paola Paola perché è corrispettivo di nino nino ed è effettivamente come anche le altre figure femminili una persona che io conosco ed è forse la persona che conosco da più tempo perché effettivamente da quando sono bambino piccolissimo adesso c'è sempre stata e la metafora che usi è quella dello spiedino sì è quella del rasnici i rasnici sono un cibo dell'est che si mangia anche a Trieste ed è uno spiedino fatto con un legnetto che trapassa pezzi di carne verdure eccetera eccetera e facendo il paragone tra pezzi di carne le verdure eccetera eccetera pezzi di vita frammenti di vita momenti della vita è lo spiedino che le passa a tutti Paola Paola è lo spiedino che c'è sempre e che li tiene anche insieme questa è un po' una metafora elegantissima che però dice quanto gusti e sapori stanno dentro questo questo libro ma è autobiografico no scherzo sì vabbè stiamo riassumiamo perché stiamo girandoci intorno sostanzialmente la storia è questa c'è un uomo che ha un appuntamento con una donna che non vede da moltissimo tempo e mentre è presente a questo appuntamento inizia a rimmaginare tutte le donne che sono anche le bambine e le ragazze tutti gli esseri di sesso femminile che sono stati importanti nella sua vita e lì non so quanti sono non mi ricordo più 7-8 secondo me sono 7 con Paola Paola più 3 apparizioni esatto è molto ma perché questo libro è un rebus cioè quindi e questa è di massima la storia però in realtà ci sono secondo me due robe non so chi sapete che ci sono un po' di teorie narrative bislacche che secondo me sono meravigliose una teoria narrativa dice che ci sono solo due libri l'Iliade e l'Odissea nel senso una storia di viaggio di conquista in cui tu devi tornare a casa o comunque arrivare a quello che vuoi oppure l'Iliade una storia di assedio anche in senso metaforico Madame Bovary è una storia di assedio Anna Carienina come dice Marcello Foy è lo stesso libro comunque è una storia di assedio e invece c'è un'altra teoria molto bella di Francis Scott Fitzgerald l'ho letto in un vecchissima intervista in cui lui diceva che ci sono solo due storie anche lui ma non l'Iliade ed l'Odissea Scott Fitzgerald dice ci sono solo due storie Pollicina e Biancaneve nel senso la storia dell'eroe maschio che vince grazie alle sue virtù e la storia dell'eroina femmina che vince grazie al suo fascino e un po' qua dentro c'è questa roba qua di di cosa oppure sei più nell'Iliade e nell'Odissea se vuoi passare la domanda se ne faccio un'altra no allora io poniamo che sia vero che esistono solo due libri no non è vero ma vediamo che sia vero però è interessante è una provocazione allora questo non è un libro e questo l'abbiamo risolto ok ecco e poi Pollicina e Biancaneve in realtà se l'idea di Fitzgerald era quella che vince Pollicino perché fa questo vince e allora sarebbe ragionare sono tutte dentro l'Iliade anche loro due quindi non chiamiamo Scott no non lo so perché non non credo che ci sia in paglio nulla da vincere credo che semplicemente ci sia un'evoluzione che nel pezzo che hai letto tu di nuovo all'inizio io mi sono immaginato così cioè che ci sono delle riedizioni di salti evolutivi no e quindi io parlavo della morula e poi il feto e sono dei salti no e quindi e quindi cos'è cos'è cioè come si fa a stabilire se sia meglio il bambino dell'asilo il vecchietto che ormai è alla fine l'uomo ai tanti in mezzo alla vita la ragazzina che andava alla giro con lui quella che poi decisi di essere madre cioè come si fa a vedere se non in una in una riedizione sempre perenne di un salto evolutivo della persona no e quindi cosa si guadagna si guadagna come dice il camminante non hai il cammino e sono da dove andare quindi per me è un pochino così questo libro qua cioè dove cerco benché la situazione sia quella di di un confronto fra fra sessi diversi un confronto che è è squilibrato è cominciato equilibrato e cerca un suo riequilibrio ma nel frattempo è squilibrato però non vorrei aver messo magari poi non mi è sfuggito nulla di agonistico dentro questa quindi è vero quindi mi trovi un po' così non l'Iliade no se devo scegliere l'Odissea perché questo va da tutte le parti cioè parte dall'asilo cerca di tornare all'asilo Odissea ok vada ma più pollicino più no cioè faccio faccio un paio di altri l'altra cosa che a me colpia io ho letto non tutto voltolini ma tanto io sai che sono dei pezzi di rincorse sono almeno una frase a memoria dai le aziende sono luoghi in cui individui adulti subiscono traumi infantili ho scritto una cosa così in rincorse beh ma è la verità chi di voi lavora in azienda le aziende vabbè io lavoro in azienda secondo me è assolutamente quello io confermo qua non c'è nell'elenco io ho letto un tuo libricino sul Po non mi ricordo come si chiamava un grande fiume il grande fiume perché era uscito Fernandello chi l'ha letto qua il grande fiume per Fernandello noi due vabbè è un gioiellino anche lì io mi ricordo delle cose ed è un racconto poi arrivo anche perché dico tutte queste cose strane e c'è una bellissima metafora che a un certo momento dici quando esci è un libro di viaggio dici quando esci da questi giud il sole sfaccetta il parabrezza come l'occhio di una mosca e ditemi se non avete perfettamente in mente che immagine però la cosa che mi colpa e poi Pacific Palisades e questo libro alla fine potrebbe se dicessi che questo è un libro che parla d'amore secondo me è sbagliato perché quasi i tuoi libri invece parlano di luoghi e ne ho citati tre che secondo me parlano di luoghi non riesci mai a scindere cioè a non esserci lo spazio dentro le tue coordinate non so cosa voglia dire questa domanda non sai cosa vuol dire però è vero perché per cui è vero è vero ma come dicevo prima no però è interessante perché secondo me lo spazio in voltoline è proprio c'è sempre e tu hai detto prima una cosa molto bella che mi piaceva sul ricomporre queste donne ma anche la ricomposizione di uno spazio non so come se il tentativo continuo costante estremo di raccontare lo spazio con una maestria folle come se fosse un modo di ricostruire i pezzi del giocattolo rotto l'hai detto esattamente la metafora prima parlando delle donne come a ricostruire per cui la stessa cosa alla fine la ricostruzione cioè io cerco di capire dallo spazio se posso mettere ordine al caos psicologismo no due cose in 10 anni in 10-15 come vi dicevo prima l'idea della storia nasce appunto da un luogo per cui proprio è nel suo germe che è il titolo cioè l'inizio è quella cosa lì sì allora io a un certo punto ho avuto una specie di intuizione che poi mi è un po' passata adesso me la fai venire in mente ma noi allora adesso abbiamo tante memorie esterne abbiamo quella del cellulare quella dell'hard disk quella della flash memory abbiamo il drive abbiamo tante cose che non ci ricordiamo più io il tuo numero di telefono non me lo ricorderò mai perché è tanto memorizzato e però oltre a questa cosa ovvia e banale della memoria di supporto elettronico è anche vero che siamo portati per avere delle memorie esterne e per me sono i luoghi cioè ci sono ci sono dei posti proprio dove io passo magari non ci penso che passo di lì e quando passo riemerge tutta una scena che lì c'è stata ma complessa perché magari era una scena complessa che arrivava lì nell'ultimo momento quindi il luogo per me è una specie di memoria di memoria esterna quindi tutte le scene che qua sono fatte diciamo sostanzialmente al mare allora il mare in questione quello vero diciamo da cui traggo l'ispirazione è quello Ligure ma siccome è ambientato Roma questo qui siamo sull'Irlo a Freggeno però insomma sì e sono posti che ancora adesso quando passo io rivedo quella cosa lì tanti anni fa ma non è che lo decido io è una specie di memoria involontaria che anziché scatenata dal profumo faccio così perché abbiamo un naso pazzesco in sala cioè lui fai così lui è un naso lui sa tutto voi andate da lui e fatevi raccontare dei profumi che sono storie pazzesche per una memoria involontaria scatenata dal luogo anziché dall'odore quindi hai ragione sono ma d'altra parte il primo libro è nato così il primo libro si chiamava un'intuizione metropolitana ed era semplicemente il mio tentativo di disegnare scomporre ricomporre città industriali sul modello della nostra perché all'epoca lo era ancora molto più già post-industriale ma si era ancora più riconoscibile di ora come lo fosse stata quindi sì hai ragione prego sì ma poi tanti luoghi diversi che entrano dentro le metafore che sono momenti metafore poetiche come Samantha quando scende come la luce che attraversa i rosoni delle cattedrali ecco questo anche i luoghi servono anche a definire meglio le situazioni e a volte sono luoghi non di contesto ma decontestualizzanti rispetto a dove si svolge la scena questo mi pare ma intanto abbiamo qui la più grande esperta di tutta l'arte del mondo e dell'universo per cui quando dici rosone tu forse ho in mente anche qua sì e sono alla fine la materia di questo libro sono queste cose qua perché no perché un un riassunto lo fa diventare una pagina no e invece io quello che ho cercato di fare è espandere nei sensi tra cui quelli visivi e quegli olfattivi e come si può ma si può già di più con la scrittura quelli musicali di espandere la cosa in modo da farla risuonare no e quando tu dici che questi luoghi alla fine questi luoghi sono una specie di roba che si mescola fra dentro e fuori no e Nino Nino è uno che ha tanti suoni in testa no capita penso a tutti ma Nino Nino capita tantissimo cioè lui ha una confusione in testa come se ci fossero dieci radio accese e però dall'inizio proprio del libro in questa confusione di suoni Nino Nino percepisce un suono che viene da fuori e lì in qualche maniera si aggrappa alla realtà perché non è solo la sua simbologia interna si aggrappa a questo suonatore di flicorno che sta suonando My Favorite Things nel Giardino degli Aranci e quindi come dire mescola le sue voci con quel suono lì poi sul gioco delle voci ho cercato di darci un po' dentro perché c'è un narratore che parla a Nino Nino ma che è una voce di Nino Nino insomma è una delle voci interne ma qui stiamo andando nella complicatezza invece è un libro semplicissimo fatto di tanti pezzi però ma lo è sì lo è semplicissimo corto beh ma ultimamente non è che scrivi proprio Pacific Palisades quanto era lungo più corto infatti senti ma facciamo l'elenco di queste donne che sono tutte un po' un cliché sì no chi fa io faccio l'elenco esatto devi proprio dire questa cosa il cliché diciamo questa cosa il cliché ma è che non sono così un po' ritagliate come delle sagomine sì e a parte le prime tre che sono le tre dell'innocenza no e che sono quindi Ilaria Luciana Sofì giusto? no Luciana è l'ultima per cui Ilaria Ilaria Sofì Luciana se vuoi che te le metta in ordine cronologico che però non è nell'ordine di capitoli va bene e poi c'è Samantha Filippa e Esther Esther sì Samantha 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 è talloni ginocchia pube Filippa è la puledera nervosa no però Filippo è Esther è la grande sedutrice Filippa è bellissimo sono dieci secondi Nino Nivo aveva quel suo magma dentro alla sua destra Filippa sedeva tacitamente nervosamente dalle scarpe da ginnastica al bordo del bermuda le crepitavano quei suoi stinchi quei suoi tibiali polpacci legamenti delle ginocchia le rotole i menischi poi sotto il tessuto guizzavano i muscoli delle cosce e nell'asciuttezza del suo ventre nell'evidenza strutturale della sua schiena soprattutto nella postura del cranio indomido dentoso dalla criniera ventilata smagnava a stento contenuta per l'occasione la sua vitalità selvatica fatta per galoppare diagonalmente le grandi paure per pianure dell'america traforando quell'incredibile wilderness mi piaceva molto il fatto del diagonalmente diagonalmente e perché è più lungo cioè se tu hai una finezza questa è una roba invece diagonalmente è più lungo detto tutto questo non succede niente no non succede mai niente non succede mai niente ma neanche con Luciana questo è il fatto cioè l'unica cosa che succede veramente è che schiacciavano da bambini le le gatte nel nell'asilo cioè sono dei cliché sì sono dei cliché ma a un certo punto i cliché come dire fanno parte della scatola di montaggio perché tu non hai più quella con l'unità che completa che avevi prima tu per dire me il ragazzo diciamo e allora si 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 arrabatta per cercare di trovare delle delle idee delle cose allora quella sembra un cavallo perché il cavallo il cavallo è nervoso è bello l'altra è tutta lucente l'altra è in difesa la va a salvare in acqua no quindi è chiaro che sono dei cliché il maschio che salva l'altra che sta perdendosi nell'acqua quella che è nervosa e non la si può tenere è la bisbetica domata no perché poi però non è domata per cui è un cliché quindi e potevano essere anche tanti di più perché i cliché sono tanti di più ma sono quelli che ho avuto io quindi e io ho cercato di mettere a nudo questo fatto perché mi è capitato ma non perché pensassi che ci sia qualche valore in ciò ma proprio per come dire esporre quali sono le cose fallaci le cose che non funzionano nel tentativo di ricomporre l'unità perduta quindi hai ragione il cliché si sovrappone alla persona la persona non ha niente a che fare con il cliché ma la ricerca di quella persona è offuscata dai cliché da un certo punto in poi no e praticamente il fatto che siano cliché tutti diversi e anche sta a dire che nessuno va bene si cerca di sfrondare si cerca di andare dall'altra parte della selva no almeno io la vedo così e Luciana è l'ultimo passo di questo andare dall'altra parte della selva perché quando lui la Madonna in un dato di luce si fa spettinare da questa luce che esce fuori dall'aula dove c'è lei allora a quel punto lì non è solo la donna angelicata è proprio la donna angelicante perché lui si sente una meraviglia ma anche lì non succede niente però ha concluso un arco di messa di messa insieme dove lei non ha delle parti cioè tutte le altre hanno una parte non ha il dente il tendere invece lei no lei è semplicemente un'emondazione di luce quindi adesso mi viene in mente adesso non è che ci ho pensato opposto però lui non ha delle parti da ricomporre è la è la specie di unicità tra l'altra parte lui quando vede quando si innamora di questa riesce anche a vedere i teoremi di geometria che prima non io dico la Madonna perché è quella a Luciana Nino Nino porta i disegni sì Nino Nino porta delle cose di luce gli arcobaleni sì degli arcobaleni come degli ex voto sì gli arcobaleni sono degli ex voto però sono la luce rifratta mentre quella invece è proprio pura no se vogliamo vederla così lui cristallo cristallino rifrange quello che può di lei e le le porta ma ma questa è una lettura così talmente successiva che la faccio adesso quindi è la mia volta come diceva ma ma voglio capire due cioè la stessa domanda ma due domande insieme come nasce questo libro a un certo momento Dario Voltolini decide che è arrivato il momento di raccontare questa storia o cioè non riesco a capire perché la bellezza formale è un po' uno cerca sempre almeno uno come me che scrive di capire come mai uno è andato a cercare a trovare cioè come l'hai trovata questa storia se fossi se dovessi dire a uno di loro perché dovrebbe leggerla cosa ti aspetti che rimanga a un lettore di questa storia ho fatto nove domande non so da che parte cominciare ma facciamo a quella più semplice cosa vorresti che rimanessi cioè cosa pensi che un lettore chiudendolo trovi e poi ti dico cosa io personalmente il mio ideale sarebbe che non si annoi non troppo si faccia incuriosire si per quello è corto si faccia incuriosire da certe immagini e la cosa che mi piacerebbe più di tutto sarebbe che ciascun lettore dicesse ah però non lì non l'ha non così non cos'ha però anche a me mi era capitato questo il massimo sarebbe se capitasse una lettrice però io non lo posso sapere visto che quasi faccio la domanda se fossi tu che dovessi rispondere tu Enrica che cosa ti rimane dentro alla fine di questa lettura faccio le interviste così adesso chiedo a qualcuno a tuo figlio ma onestamente però io sono una signora attempata quindi non so quanto vale il mio giudizio no c'è questa inquietudine ecco inquietudine dello sguardo del maschio su questo come dire su questa anatomia ecco un po' questo rimane il mondo anatomico e questo sguardo esterno puntato ecco questo un po' mi inquieta nella lettura mi ha inquietato ma è interessante questa cosa io non l'ho anche notata perché siamo maschi infatti glielo l'ho detto a Dario ho detto beh è un po' porno ma se fossi un autore giapponese e li infilassi tutti in un freezer nessuno avrebbe niente da ridire guarda che bel tallone che hai in un freezer lì però tutto bene e invece non si può guardare un capello io sono un po' il tuo lettore ideale perché io sono di quelli che ho iniziato un po' a pensare a dire ma in effetti se dovessi andare a ricostruire le persone importanti della mia vita di sesso femminile come le ricostruirei quali sceglierei come le ricostruirei chi mi ha colpito di più perché anche anatomomicamente devo ammetterlo per cui sono un po' nel pezzo allora non so se mi vado a impelagare come l'omino che dava i pugni e l'omino di pece e poi non ce la cavavo più però la visione del tutto è ilaria le visioni parcellizzate sono tutte le altre perché è la ricerca di un tutto cioè il fatto che il fatto che però qui rischiamo di arrivare alla fine che che il finale è abbastanza sorprendente su cosa non lo svegliamo no su quello che stai dicendo ci aspettiamo che alla fine che cosa un macello esatto qualcosa questa storia è ben curiosa forse perché perché io sono figlio di un agnellaio voi sapete questo sapete questo e pensate è autobiografico dice vieni giumenta ti porto a vedere un bel posto chiude in un frigo a portapalaccio già questo è quello che si aspetta uno sì sì no in certi momenti ma certo sì si addombra un finale tragico non lo so ecco questo lo stupro sì sì lo stupro ecco no nel senso che ci tengo a dirlo non c'è nessuno stupro con questo con questo vendo vendo poche copie perché in realtà se uno così vuole vederlo stupro da tutte le parti perché gradisce no no anzi c'è proprio il rovescio no il rovescio è no c'è proprio il rovescio nel senso che c'è una ricomposizione consolante eh giusto è consolante io non lo so io non lo so quanto sia consolata è consolata sempre la madonna ma perché eh perché eh il il nonino ha un'età avanzata cioè è è uno della mia età no è anche Luciana sostanzialmente quindi tutta la parte della vita loro da quando si sono visti al liceo in poi non è raccontata no non è raccontata e quindi tutta la parte della relazione maschio-femmina adulta non c'è si capisce che c'è stata perché entrambi hanno una famiglia con dei figli eccetera quindi diciamo con queste lissi porta a essere ricomposta da un'inferenza che dice che che le cose sono andate poi diciamo normalmente tra virgolette no però non viene raccontato perché si ferma tutta la narrazione a prima esattamente a quando si decide Nino Nino decide di scendere da questo parapetto metaforizzato dal del Zasino degli Aranci per andare a vedere cosa c'è poi nella nella realtà cioè le persone vere no quindi dopo si capisce che ci sono state delle persone vere se no non sarebbero lì a dirselo non sarebbero lì a dirselo con quella serenità perché io spero di aver fatto in modo che non ci siano dei rimpianti nelle loro storie non ci sono dei rimpianti perché la vita poi è cestata c'è già ancora insomma voglio dire con la stessa mia età e quindi però è tutta prima prima di impegnarsi seriamente concretamente diciamo con un altro con un altro essere no? è tutto è tutto fantasia i tocchi sono fugaci cioè sono a metà tra tocchi fra ragazzi che giocano e però è una è una bambina siamo tutti praticamente stecchi stecchi all'epoca e non c'è così quella differenza che poi viene sbaragliata via da Esther cioè Esther è la prima bambina ragazza tra virgolette che si presenta comincia a presentarsi come un corpo un corpo femminile che non era certo quello di di Ilaria che era esattamente come un bambino come un ragazzino per lungo tempo siamo molto simili e per lungo tempo ci capiamo molto di più e poi quando ci differenziamo ci capiamo meno ci interessiamo anche di più insomma diventa un casino e e questo casino a un certo punto si ricompone o a meno di patologie in qualche maniera riusciamo a metterli insieme una cosa ma la parte concreta del metterli insieme qui non c'è è posta in un ellissi totale cosa ho detto? ripeto non è che ma la fine è un libro d'amore ma no essere tra due fuochi d'amore no ovviamente o sì o no eh già adesso dipende ci sono tante tante accezioni di amore no e alcune sicuramente sì è un libro di amore perché io io ritengo che di nuovo con Ilaria fosse un rapporto di amore ma nel senso di amore una quarta è una quarta accezione dei greci che non ce l'hanno è quella dell'amicizia e dello stare uguali no e poi con Paola Paola è un rapporto di amore perché continuano a esserci l'uno per l'altra perché come amici quindi esiste l'accezione di amore che è sull'amicizia no sempre in greco io parlo non solo greco per cui chiedo a te sì poi non si è capito ma c'è anche una moglie sì è certo che c'è una moglie è quello che ti dicevo prima quando cioè quando finisco la narrazione a prima che capitino delle cose e quelle cose non sono raccontate sono però intuibili perché essendoci una moglie essendoci dei figli essendoci un marito essendoci dei figli per Luciana vuol dire che la vita poi è stata grossomodo normale non hanno ammazzato nessuno almeno non sono stati lui non è stato colto in fallo fallo non è stato non è stato preso ecco e quindi da un certo punto di vista è un racconto di amore ma è di più un racconto di tentativi di innamoramento diciamo accensioni che poi a un certo punto retrospettivamente dice ma forse mi ero innamorato forse era una cotta quella roba lì che non si capisce cos'è ma che è che di tutte le persone che ci sono al mondo sono 9 miliardi e tu ti prendi quella lì ti fissi non si sa perché perché quando Nino Nino si fa spettinare dalla luce della Madonna Luciana a prendere la porta è già in seguito a un'altra a una pre a un prequel perché un amico di Nino Nino gli faceva la testa così perché andasse a vedere questa Bruna di cui lui si era innamorato perso invaghito perso è Bruna qui è Bruna lì e a un certo punto Nino Nino si scoccia di questo amico che gli sembra che stia delirando e questa Bruna che cosa sarà mai finché non tocca a lui allora rimane bastonato anche lui e quando vede la Bruna Bruna dell'altro che si suppone non lo dico ma si suppone che per l'altro sia esattamente come la Letizia per lui la trova normale ma l'altro l'avrebbe trovato normale Letizia cioè che cos'è che fa di una persona che è normale come mediamente siamo tutti quella che ti fa accendere delle robe così non lo so questo qui nella misura in cui l'innamoramento non si sa cos'è allora è più un libro di innamoramento sì su questo posso essere d'accordo in effetti wow Fagella Enrica e allora è anche un libro su come la prima metafora che leggevamo sulla possibilità labirintica di arrivare da qualche parte in cui ogni vivi è diverso sì non solo sull'innamoramento ma in generale in generale in generale puoi rispondere che solo sì 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 sì